Oggi un video dei preferiti del periodo. Allora queste caducce le ho acquistate... come vedete alle mie spalle ho tantissime fragole. Oddio. Questa che sicuramente entrerà a far parte come nella mia. Oggi videotag, to match information, ti me... Allora, la prima scoperta del periodo, normalmente usate per una torta 100 g di zucchero e dovreste usare 5. Io vi saluto e noi ci vediamo lunedì con un'altra... Un'altra scoperta del... Ciao ragazzi, bentornati alle... In questo caso ne... In questo caso ne... Oppure volete fare una ciambella? Un altro prodotto che... Ciao ragazzi, bentornati con il nuovo appuntamento... Faccia un bel... Ma perché deve abbagliare questo cane? Io vorrei capire... C'è tutto il sottofondo col cane che abbaglia? Da oggi, quindi da lunedì... Basta! Queste due... Queste due... Praticamente non fa randerire E che questa videoricetta vi sia... Per gli sciroppi... Per tutte... Per il cioccolato fondente... No... Un'altra particolare... Un'altra particolare... E mia sorella Silvia... E soprattutto che il video vi abbia... Mi raccomando, fatemi sapere le vostre risposte nei commenti... E dicetemi... Sicuramente...